buona pasqua allora ragazzi come regalo di pasqua vi svelo qual è il mio dolce kinder preferito il mio dolce kinder preferito è il mi sa il kinder cereali e che ragazzi la kinder ce la so un sacco mi piacciono io vi dico il kinder cereali perché proprio il kinder cereali io lo volevo sempre anche se in realtà io ho iniziato ad adorare il kinder maxi e vabbò però ragazzi il kinder cereali mi sta a cuore adesso per favore io ve ne voglio semplicemente andare a riposare perché perché domani domani uno youtuber pubblica un video molto importante che vuoi andare a vedere devo anche montare quel cacchio di video sull'iceberg mi prego fatemi riposare